Musica Musica Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata l'anno prossimo alla stessa ora con Edie Angelillo e Blassero Carei, regia di Carlo Arlighiero al Teatro Amazoni di Roma. La commedia più romantica del ventesimo secolo di Berna Slade, presentata per la prima volta a Broadway nel 1975. Ascoltiamo l'intervista con i protagonisti. L'anno prossimo alla stessa ora, una piacevole commedia qui al Manzoni di Roma, ne parliamo subito con i protagonisti. Innanzitutto, come sono i vostri personaggi? Allora, intanto è una bellissima commedia, non è piacevole. No, è una commedia molto divertente, scritta benissimo da Berna Slade. È un orologio di risate e anche di emozioni, perché è tenera, è questa storia d'amore. E poi è d'amicizia che prende un arco di tempo infinito, cioè dal 51 al 76, questa coppia di amanti si vede appunto ogni anno nello stesso motel in cui hanno fatto l'amore per la prima volta, alla stessa ora. C'è stata anche la versione cinematografica. Che cosa cambia nella vostra versione con i registri? Guarda, io non l'ho vista la versione cinematografica. Non l'ho vista anche perché mi sono ripromesso di vederla, ma dopo l'ho messa in scena, perché un film è sempre molto preciso, pregnante, potrebbe influenzare. Ho preferito fare il nostro percorso. Come avete lavorato con Alighiero? Benissimo, questo è il terzo spettacolo che faccio con Carlo. Carlo, che si può dire di Carlo Alighiero? Che è un regista incredibile, è un vulcano, è un regista poi con cui si può condividere, togliere, cambiare, mettere. Cioè è aperto a qualsiasi tipo di input e quindi questo è segno di intelligenza e di uno che insomma sa cosa sta facendo e conosce il teatro molto bene. Però con Edi avete già recitato insieme, però qui forse per la prima volta solo voi due in scena come protagonisti o no? No, la prima volta che abbiamo lavorato in scena era una commedia che si chiamava Tre Delitti, era un mio progetto, avevo chiamato tre autori italiani, che erano Edoardo Erba, Angelo Longoni e Gianni Clementi, a scrivere tre storie d'amore di mezz'ora, di due persone che si incontrano all'aeroporto e scatta qualcosa, era molto divertente. Questa è stata la prima volta. Poi abbiamo fatto altri due spettacoli con altri attori e questa è la quarta volta. Ma qui siete solo voi due in scena, quindi dovete reggere tutto l'intero spettacolo. Come si fa? È un monologo? Allora è ancora più difficile. No, non è vero che è ancora più difficile. Ci vuole fibra, ci vuole energia, ci vuole lucidità, ci vuole intesa, ci vuole empatia, ci vuole collaborazione, ci vogliono molte cose che devo dire io, Edi, abbiamo, ci troviamo molto bene in scena e nella vita sfuggiamo in tutti i modi la frequentazione. Però invece in scena, così miracolosamente, per le magie del teatro... Funziona. Un televisore. Una volta alla settimana andiamo a giocare a bullying. Una che cosa può desiderare di più. Invece ci crederesti? Io a volte mi sento soddisfatta. È stupido. Ma non mi sembra così stupido. Tutto questo a volte può non bastare. Oh, lo vedi? Con te io posso davvero parlare? Mi ritrovo a dirti cose che non sapevo nemmeno di pensare. Me ne sono accorta ieri. Quando ci siamo incontrati mi sono detta io con quell'uomo... ci parlo. La pièce dal 75 è rimasta in scena per ben quattro anni consecutivi ed è ancora oggi uno degli spettacoli più rappresentati nella storia del teatro. Doris e George, entrambi quarantenni, sposati e con figli, si incontrano per caso e subito scatta la scintilla. Travolti dalla passione finiscono nella stanza di un motel. A risveglio, il mattino seguente, decidono di redersi l'anno successivo, lo stesso giorno, alla stessa ora. Una qualità di Eddie in scena qual è? Sicuramente non i suoi capelli. Invece una qualità di Blass? È un attore istintivo, è un attore simpatico, empatico, quindi insomma ha quelle doti tra virgolette moderne di una recitazione che non è artefatta. E quindi mi ci trovo bene per quello. Tu però non hai detto niente su una qualità. C'è una dote sua che appartiene, secondo me gli attori si dividono oltre che fra bravi e non bravi, fra lucidi e non lucidi. Eddie è un'attrice che in scena è lucida, ti puoi fidare, puoi essere tranquillo che se tu fai un passo falso, lei nelle sue possibilità lo rimedia. Cosa che tra l'altro è successa ieri, è una piccola sciocchezza che succede spesso agli attori. Una battuta un pochino lunga di cui io ho dimenticato l'ultima frase. E l'ultima frase era l'attacco per la sua successiva. Lei non ha battuto ciglio, ha rivoltato la cosa e è andata avanti. Questo dice sì e dopo tanti anni di palcoscenico è normale. Non è normale perché è una dote che uno ha o non ha. Io ho lavorato con attori bravissimi ma che ti guardavano con l'occhio da triglia e non sapevi dove ti avrebbero portato. Vi parlate della scena più difficile. C'è una scena che... Sì, ce n'è più di una, tutte le volte che ci dobbiamo baciare. È una palla pazzesca. Però stranamente sembra che funzioni. Funziona sulla scena. Ma nessuno dei due è molto felice di questo. Ma siamo dei bravissimi attori e sembra veramente che ci amiamo molto. La prima cosa che abbiamo chiesto all'unisono a Carlo Alighiero è stata... È una storia d'amore. Ma mica dovremmo baciarci? No, no. Cioè, finito? Beh, sì, come no? Eravamo d'accordissimo. Perché effettivamente ci stimiamo tanto come attori e ci vogliamo bene come amici. Però fisicamente c'è una sorta di repulsione, diciamo la verità. Che poi noi essendo degli straordinari attori poi nessuno se ne accorgerà. Ve lo diciamo così intranos ma non si vede, non si vede. Parliamo dei vostri personaggi. Che cosa c'è di vostro o di diverso nel ruolo che interpretate? Beh, è una domanda difficile perché io non mi sento molto simile a Doris se non nella sua parte più leggera. Ma io credo che non riuscirei mai perché sono abbastanza non possessiva o gelosa però non mi piacciono le cose, insomma non so raccontare balle, ecco, non sono capace e quindi non potrei tenere due storie insieme e quindi questo non mi fa sentire vicino a lei. Però è un personaggio bellissimo, è un po' naif e poi è una che parte dall'essere una piccola capretta proprio a livello ignorante però c'è questa voglia di evolversi e arriva poi in ultima scena che insomma lei vuole entrare in politica. La storia va avanti per ben 25 anni nella stessa stanza di albergo mentre il tempo inesorabilmente scorre. Fuori ci sono le guerre, crollano gli idoli, ne nascono di nuovi e cambiano le mode. Di scena in scena col passare degli anni c'è l'entusiasmo nel ritrovarsi ma soprattutto vediamo crescere una sconvolgente e appassionante storia d'amore che diverte ed emoziona. Una commedia tradizionale e moderna che ha riscosso grande successo ovunque sia stata rappresentata. In realtà sono tanti personaggi perché noi ci incontriamo ogni anno, il pubblico ci vede ogni cinque anni e sono sei quadri, no? Quindi sono 25 anni. In 25 anni la bellezza della commedia è che ogni volta che ci si vede c'è qualcosa che anche solamente provvisoriamente ma in noi è cambiato. Ed è divertente per quello, per un interprete avere sei sfaccettature, non sono sei personaggi diversi ovviamente ma sono sei sfaccettature abbastanza precise e distinte. Io per quanto mi riguarda il rapporto possibile, un rapporto del genere, no? Ma non né per bacchettonismo né per senso di possesso, semplicemente se una persona mi piacesse così tanto da vederla ininterrottamente per 25 anni non potrei mai accontentarmi di un weekend, non mi basterebbe. Al cinema che cosa vi piacerebbe interpretare adesso? Qual è il ruolo che accettereste subito? Ma più che il ruolo, diciamo, il regista. Ammiro molto come regista Virzi, mi piace perché è un regista che lo definirei anche abbastanza un artigiano insomma anche del cinema e ricorda molto il cinema di una volta, quello delle commedie italiane fatte bene, intelligenti. Invece Blass, che tipo di film, thriller e comedy, fantasy? Allora, io sicuramente Virzi, sicuramente Paolo Genovese e Gabriele Muccino, che è un mio amico con cui ho fatto due film, ma è uno dei più straordinari direttori ed attori che abbia mai incontrato e ci rilavorerei molto volentieri. Io poi ho un sogno stupidissimo, io vorrei fare un film in cui corro a perdifiato con una pistola o che rincorro vengo rincorso, l'importante è che corro tanto con sta pistola in mano. Fatemi fare uno che corre con la pistola, non è che devo dire tante battute, poi magari muoio dietro l'angolo. Fatemi correre con sta pistola, capito? Tutto bello, mi piacerebbe da morire, questa cosa qua. Per l'amor di Dio, l'ospedale, ma cosa ti dico all'ospedale? Non siamo mica sposati. Telefona! Sì. Dove vai? In bagno. A fare che? Fai te lo spiego. Sì, signor Chalmers, salve, allora qui servirebbe. Mi può passare per piacere l'ospedale? Bernard Slede è un drammaturgo e sceneggiatore canadese. Dopo aver scritto numerosi show televisivi, si è trasferito con la famiglia a Los Angeles, dove ha iniziato la sua carriera di scrittore, dando vita a numerose serie televisive di successo. Ha debutato come autore a Broadway con la commedia alla stessa ora il prossimo anno, che ha avuto una nomination al premio Tony, ha vinto il Drama Desk Award ed è stata presentata in tutto il mondo in 40 lingue diverse. La sua sceneggiatura cinematografica della commedia ha ricevuto una nomination al premio Oscar. Invece a teatro il prossimo lavoro, quale sarà? C'è qualcosa che vi manca? Dopo questo spettacolo, che insomma amo molto, comincerò le prove del Rugantino e saremo a Sistina dal 20 dicembre a fine gennaio. Quindi è una commedia musicale di una bellezza incredibile, le musiche di Trovaioli e poi ci sarà la regia di Pietro Garinei, quella che è stata. Quindi sinceramente passo da una commedia brillante come questa, che mi dà modo di poter tirare fuori tante sfumature, passare poi alla commedia musicale e poi a marzo ci farò un altro spettacolo in cui sarà un pochino più drammatico. Sinceramente non mi manca nulla e mi manca tutto, nel senso che ho voglia di fare ancora tantissime altre cose e sempre una diversa dall'altra. Per te invece? Io dopo questo sarò in questo stesso teatro con un altro spettacolo che si chiama Confidenze Pericolose, con Pamela Villoresi, con Patrizia Pellegrino e con mio figlio Paolo che ha 27 anni e farà mio figlio in scena per la prima volta. È una gran bella cosa. Dopo farò il Misantropo, un classico con Scarpati e Valeria Solarino e poi a fine stagione le lettere a Teo di Van Gogh. È uno spettacolo, credo la cosa più bella che abbia fatto, strutturato, inventato e riscritto da me, basato ovviamente su queste lettere strazianti e meravigliose di Vincent Van Gogh che farò al Teatro Lo Spazio dal 9 al 14 aprile. Grazie per essere stato con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto a tutto il pubblico di Dietro le Quinte, spazio che io non frequento e non frequenterò mai perché voglio stare in scena ma voi che seguite questo programma continuatelo a fare nonostante ogni tanto vi incappiate in Eddie Angelillo. A tutti voi di Dietro le Quinte un bacione grande da Eddie Angelillo e da Blasso Lo Carei in questa ma pianta. Mamma Maria mi prende in giro, ma vi venite conto? Come posso dire una roba del genere? Comunque, insomma, andate a teatro, andate a teatro e che è vita, è una grande meraviglia. Ma non c'è un bambino? E che ci vuole? Io l'ho visto fare un milione di volte in televisione tante di Doris. Credo che avrò bisogno del tuo aiuto. E adesso weekend al cinema. Domani ho la sentenza. Capisco. Vostro onore, l'aspettano? Un giudice è una signora di ferro che si occupa del diritto di famiglia e si trova a dover scegliere tra il volere dell'ospedale e quello del paziente. Emma Thompson convince nei panni del giudice che ha consacrato ogni momento della giornata al lavoro. L'incontro con il giovane testimone di Geova cambierà la sua vita. Lui e i suoi genitori sono testimoni di Geova e le trasfusioni non sono ammesse dalla loro religione. E con questo è tutto per rivedere le puntate www.dietrolequinte.tv.com e per le vostre segnalazioni info, chioccio e dietrolequinte.tv.com. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie per la visione!